Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video potete vedere qua quanto mi manca per il livello 36 ormai siamo arrivati all'U manca veramente poco però prima di iniziare vorrei guardare lo shop allora, l'avevo già guardato prima abbiamo la mega cassa posso trovare uno oppure due speriamo, gadget di 8 bit oh mamma mia c'ho paura qua posso anche riscattarmi le monete andiamo subito a riscattarle riscattate e adesso andiamo allo shop mamma mia mega cassa, speriamo di trovare qualcosa di bello ok mega cassa ci siamo ormai aspettiamo la prima allora spera salta 6 skip 6 skip potrebbe essere il gadget di 8 bit spero il secondo ok ultimo skip luminoso dai dammi un bel brawler ho più il secondo gadget di 8 bit intanto troviamo il gadget raga aspettiamo che vai gelindo ho trovato gelindo raga un cromatico sii gelindo vabbè raga non me l'aspettavo non me l'aspettavo per niente non me l'aspettavo gelindo raga gelindo gelindo ok raga adesso apriamo 43 di oro 3 skip ne niente va bene adesso è arrivato il momento della verità andiamo a prendere le 10 gemme un attimo che controllo se la realizzazione sta andando perché se trovo qualcosa di bello ok vai abbiamo abbiamo abbastanza gemme per il pass attivo brawl pass vuoi davvero acquistare il brawl pass brawl pass acquistato adesso abbiamo un sacco di livelli da aprire raga ho una gemma che delusione allora andiamo subito con riscattare l'u andiamo subito subito mamma mia mamma mia il secondo brawler cromatico di oggi anzi del video ok e adesso chi rimane solo da spacchettare tutti questi livelli allora partiamo dal livello 1 vai niente va bene me l'aspettavo niente dai quanto mi dai 56 ma proprio niente oro dai non ci lamentiamo 49 ma non credo infatti apriamo anche questa piccola ma non mi dà più niente la piccola non dà più niente infatti poi andiamo con questa cassa 47 potrebbe darsi però non credo infatti adesso andiamo con la mega cassa adesso andiamo col botto raga aspettiamo a aprimi aspettiamo a aprimi veramente anzi adesso lo facciamo con tutte le casse perché non lo so 5 niente infatti che delusione si è rimasto veramente molto deluso e niente mi cica tanto ormai questa cassetta non so se anche a voi ma a me non mi dà più niente sta cassetta cioè manco per sbaglio mi dà qualcosa mamma mia sta cassettina niente no perché due skip proprio questo proprio vai dai cassetta dammi qualcosa ho trovato leoni sta cassetta piccola non trovo manco un epico vai no non credo infatti prendiamo i gold ok non credo infatti vai mega cassa di livello 20 speriamo di trovare qualcosa ma a me basta anche i gadget di 8 bit cioè vabbè quando danno così tanto oro manco con 5 skip niente caraga mi sa che sto unboxing sta andando veramente male non è che mi sa proprio sta andando male ma malissimo ma proprio male male ho aperto già un bel po' di caffè e non ho trovato quasi niente 110 di oro vabbè manco ci spero vabbè vabbè raga vabbè tanto non mi dà niente lo sappiamo che non mi dà niente lo sappiamo già non mi dà un bel cavolo non ci spero proprio dai due centrodoppi aggettoni potrebbero servire a chi ci potenziamo dai potenziamoci a lui ok vai eh niente 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 proprio 169 solo per lui solo per lui ma non ho proprio visto uno skip luminoso dai megacassa dammi un po' di fortuna tu tu per favore dammi qualcosa per favore megacassa per favore per favore non ti chiedo niente solo anche il gadget di otto beat mi basta niente niente raga la super solcela con noi avremoci sta cassa tanto togliamoci tutti i dubbi finiamo sto sto unboxing cento di gold cento ok abbiamo quasi finito quello gratuito non troviamo niente nel gratuito che pizza in quanto li do a gelindo e apriamoci la cassa enorme se trovo qualcosa c'è sta cassa enorme raga se trovo qualcosa anche il primo gadget di otto beat se lo trovo sclero no non trovo niente niente adesso passiamo col pass premium andiamo subito a riscattare dynamite facchino bellissimo dynamite facchino poi con la seconda megacassa con la megacassa del livello 2 dammi qualcosa ti prego ti prego non ti chiedo niente solo una cosa perchè ho shoppato un botto si skip si skip sicuramente il gadget gadget è sicuro il gadget proprio allora skip luminoso skip luminoso raga raga è il gadget infatti ok lista di trucchi perfetto mi sono accontentato lo stesso mi accontento anche del gadget guardate mi accontento mi basta anche che trovo l'altro gadget sono contento io almeno che trovo qualcosa oh il pacchetto di reazioni non ne ho mai aperto uno carine carine non mi piacciono un sacco non vado matto per le reazioni però mi piacciono vediamo diamole a lui quanto li possiamo potenziare a sti brawler adesso sto trovando anche un botto di monete ti prego il secondo il secondo gadget no no non me lo volete proprio dare il secondo gadget vai almeno c'è la cassa no la mega cassa dai mega cassa conto su di te dammi il secondo gadget oppure un brawler oh sei schifo sei schifo è il secondo gadget raga è il secondo gadget perché non ci sa ma io spero che sia un brawler ma se il secondo gadget mi ha contento lo stesso vieni qua mi devi dare tutto il tuo supporto vieni qua dammi tutta la tua fortuna tutto il tuo supporto da vieni ho trovato frank l'ultimo brawler epico si vai così abbiamo anche da frank qua vai così vai così frank così mamma mia ok vai adesso apriamo sta bella cassa ma non ci trovo niente infatti adesso mi manca solo allora ho trovato qualche brawler sono contento adesso a me mi basta solo un secondo raga a me mi basta solo trovare l'ultimo che mi potenzio eh vai con gelindo vai gelindo allora voglio trovare anche il gadget di gelindo quindi mamma mia lu poi frank basta che ho trovato altro il gadget di 8 bit da non scordare manca solo l'ultimo che è bestiale allora potenziamoci gelindo fino a trovare il gadget credo ah no a livello 5 lo portiamo e adesso ci potenziamo l'ultimo lo portiamo anche a livello molto alto e vabbè ma guardate quanti soldi oh ma sono ricco sfondato 7 ricompensi sono rimaste raga ah speriamo di trovare qualcosa dai ti prego ti prego voglio trovare almeno il secondo gadget di 8 bit niente queste cassette mi stanno un po' deludendo ma non un po' un po' così stanno deludendo molto reazione di lu cosa devo dire io cosa devo dire mi aspettavo di trovare un brawler leggendario mi aspettavo di trovare qualcosa di utile non che lu e frank non siano utili però mi aspettavo qualcosa in più sapete mega cassa concludi questo video alla perfezione dai dai mega cassa dammi un leggendario se trovi il leggendario impazzisco raga ma almeno il gadget dammi qualcosa mi basta che sono 6 skip dai 6 skip raga 6 skip dammi 6 skip 6 skip si 6 skip vai tanto il gadget però sono contento anche del gadget vai skip luminoso skip skip luminoso gadget ok mi piace dai guardate quanti invece di 6 colpi sparati che che qua che